Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa della provincia di Treviso per oggi 26 giugno partiamo con la tribuna di Treviso con Marcon l'ultimo sgarbo e l'appoggio ammanzato in retroscena delle dimissioni del sindaco di Castelfranco ha pagato le incursioni in politica lui rilancia l'attacco, lavoro, natalità e salute sono le vere priorità e non i diritti LGBT ma vedete che c'è la foto nella fotonotizia di Stefano Marcon un po' perplesso da tutto quello che sta succedendo di spalle invece fiumi e torrenti ancora in secca, irrigazioni di massa se ne parla ancora altre notizie di cronaca ma sotto tornando alla Lega c'è Marcato che si sfoga e si parla solo di posti non so se resto, la notizia invece, la fotonotizia centrale trovata morta sul divano e giallo a Conegliano botta in testa e due stanze a suo quadro per l'anziana trovata purtroppo senza vita auto investe un calesse, due feriti, uno è grave, notizia che abbiamo trattato anche noi 500 Alpini a Pieve per i 600 anni del gruppo ANA, la solita festa degli Alpini che non può mai mancare andando su Gazzettino, Russia, Biden e Putin sapevano il golpe sui mille misteri sia gli USA che Mosca erano informati del piano, queste sono notizie di carattere nazionale, la Casa Bianca avrebbe deciso di non appoggiare il blitz e l'amnistia in generale e poi i casi Lega, vedete quello di Stefani stop alle polemiche, c'è tanto da lavorare e la rebus marcato, addio Lega, tutto può succedere insomma un marcato che lascia la Lega, lascia sempre un po' così, una notizia che fa molto pensare la notizia del ragazzo che invece ha attraversato il binario ed è stato investito ucciso dal treno è un po' su tutti i giornali, la polemica del CAI, basta croci sulle montagne, bufera sul CAI che poi si scusa, ma insomma vanno messe le croci, l'importante è che siano discrete, dicono poi vedremo anche come andrà questa cosa, c'è molto spazio anche per un approfondimento prof assente, 20 anni, su 24 è stata bocciata dai giudici, la Chioggia, la Cassazione interviene vediamo anche su Corriere della Sera, sapete che il lunedì non c'è il Corriere del Veneto quindi noi diamo un'occhiata alla prima pagina del Corrierone nazionale, giallo sul capo degli insorti russi perse le tracce di Prigovzin dopo il blitz e il vacile all'impero di Putin in Pechino sostegno a Mosca, trovati 43 milioni nel covo della Wagner delle notizie correlate, i generali Lozar sono in bilico, il dissidente è il momento della forza il Papa sul caso Orlandi è molto vicino alla famiglia, la Meloni, il bilancio tra promesse e i fatti è in Grecia che Emisiotakis travince alle urne, finti poliziotti rapiscono in Ecuador uno chef italiano, così abbiamo un altro concittadino nei guai in giro per l'Italia vedete che anche qui sulla nostra pagina di Notizie Plus c'è auto che impatta contro Calessi in ospedale Cocchiere e passeggero e qui si parla ancora di Marcon possiamo anche aprirle la notizia perché le altre sono laterali dimesso da sindaco Castelfranco e presidente della provincia del suo giacuzzi ne parleremo e possiamo andare a leggere l'articolo di Alvise Salice dove spiega bene che cosa è successo e che cosa succederà durante la giornata perché ancora se ne parlerà, intanto per oggi è tutto